ora su brindisi live io non so sinceramente che cos'è questa strama il vento sta aumentando e questa qua il vento sta aumentando questo è live non so quanto dura la batteria è molto bassa il vento sta aumentando forse una tromba d'aria guardate in questo momento orca di seria guardate live brindisi mamma mia forca miseria guardate live brindisi è passato e poi qualcuno dice che i cambiamenti climatici non esistono allora quello che vi posso dire è che passato quel quelle nuvole la strana nuvola il vento sta ancora però è quella strana nuvole è passata è un po diminuita ritorna ma mia bu proveniente da cerano dal camino di cerano invece probabilmente probabilmente era una tromba d'aria perché ora che quella strana nuvole è passata il vento è diminuito mi sembra di vedere alcuni lampi nel sole mesagne io sono convinto che quella nuvola stranissima che è passata era una piccola tromba d'aria sicuramente 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 purtroppo in questi giorni sta facendo troppo 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 caldo e anche di notte anche di notte tutta 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 la polvere negli occhi mi è andata parca miseria che paura che paura che paura perché non c'è quindi io penso che fosse una piccola tromba d'aria sicuramente sicuramente mamma mia, putta negli occhi manda la polvere che puttana allora se qualcuno sa se c'è stata una tromba d'aria perché probabilmente probabilmente quella era una tromba d'aria la cosa strana è che il vento prima non c'era si è alzato improvvisamente mamma mia che paura che paura che paura il vento si c'è ancora ma non è più forte come prima ma non è più forte come prima vabbè finisce qui a direttore a direttore a direttore